Oh no, 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 la siepe la taglio da sola. Così è più di mio gradimento. Amata maestra passa miglior vita. Sono Harriet Lawler. Affidare il mio necrologio al caso è totalmente insensato per me. Lei sa farle sembrare vite pieni di successo. Voglio che lo faccia anche per me. Qui ci sono un centinaio di nomi. Le interessa sapere come verrà ricordata? Piena di forza. Insopportabile. La vagina più incazzata dell'Italia dell'Atlantica. La detestavo. Ero la sua ginecologa. La odiavo profondamente. Può dirmi almeno una cosa carina su di lei? Se morisse sarebbe una cosa carina. Che ne dice? Siete voi i bambini a rischio? E tu sei dei servizi sociali. Scusami? Sei bianca e sei qui. E in effetti. Il defunto deve essere stato ammirato dai colleghi. Vorrei un lavoro come disgioche. Sono Dana. No, tu sei fuori. Ehi là. La mia assistente. Il defunto deve essere stato amato dalla propria... ...pubblico. Hai detto al mio ragazzo che non era la mia altezza. Speravo mi dimostrassi che sbagliavo. Proprio alla festa di fidanzamento. Sono quella che sono. Ah, siamo ancora vivi e vegeti allora. Dal tuo aspetto non ne sarei così sicura. Insieme per 22 anni. Non me ne sono mai pentito. Non vi auguro una buona giornata. Ma una giornata che abbia un senso. Non sono pronta a chiudere questo... Per questo probabilmente ci sbatteranno entrambe in galera. E a me? In riformatorio. Ci sto. E a me? Grazie a tutti